Ho già una teoria folle. Di nuovo, mi aspettavo che nel quarto episodio a questo punto qua abbiamo avuto intro veloci, ma prendendo appunti durante lo scorso episodio sul mio quaderno di Splatoon 3, ho ripensato ad alcuni dettagli che abbiamo scoperto ed ho già la mia prima teoria quasi completamente infondata. Tutto parte ancora dalla descrizione in cui viene menzionato il dio del fuoco dalla maschera del golem di fuoco. Sto cercando ancora di capire bene a chi si riferisse a una cosa del genere, viene definito un dio crudele in ogni caso, ma ripensando a quell'argomento ed in generale al tema che le fiamme sono spesso associate a divinità, il concetto di un dio del fuoco sembrerebbe l'entità più importante del mondo di Alden Ring. Solo che non abbiamo mai sentito parlare, sappiamo che la volontà superiore è la divinità più influente e più potente nell'interregno. Ma c'è una cosa che non è ancora stata molto approfondita, a questo punto qua se andranno a approfondire diversi argomenti come potenzialmente anche la stella di sangue, la madre in forme, non vedo perché non potrebbero ritirare fuori anche l'argomento della fiamma della frenesia. Durante la quest della Chierica cieca in ricerca della fiamma della frenesia e della porta delle tre dita, lei ci fa sapere, ed è una cosa che non ho mai approfondito da allora, che in passato in un qualche modo, in un qualche senso, l'entità della fiamma della frenesia faceva quasi parte ed era la stessa cosa potenzialmente a volontà superiore. Questo argomento il gioco lo tratta sempre in modo molto vago e aperto a interpretazioni, ma se andranno ad approfondire una cosa del genere all'interno dei DLC, sarebbe interessante interpretarla sotto questo punto di vista. E se il dio del fuoco fosse appunto la forma originale della volontà superiore più la sua ipotetica seconda metà? E se la volontà superiore è diciamo la parte di luce e c'è poi separata una parte di ombra, che troveremo o che avrà influenza qua nelle terre dell'ombra, nel regno dell'ombra? E quindi qua a chi mi riferisco? Mi viene a mente da pensare a Mesmer. Una cosa che mi ha sempre fatto strano di Mesmer è che le sue fiamme, che sono rosse, hanno all'interno però un elemento oscuro e che viene rappresentato da delle frasi cifrate in lunghe strisce nere che ricordano molto il tipo di scrittura del patacifrato, che è una cosa strettamente collegata invece alla volontà superiore. Ed in più anche nello scorso episodio abbiamo trovato come oggetto le bragi di Mesmer, rimasuri delle sue fiamme, che se visti nel dettaglio possono sembrare una versione molto piccola di una bestia ancestrale. Se Mesmer quindi fosse l'araldo, l'imperio di questa seconda metà della volontà superiore, la seconda metà della entità che rappresentava all'epoca e sta sfruttando quel potere lì, non è che vedremo una sorta di altra belva ancestrale in questi DLC qua? Anche perché una cosa di cui scherzavo mentre guardavo l'originale reveal trailer del DLC era appunto il fatto che Mesmer dovrà sicuramente avere una seconda fase. Inizialmente ipotizzavo tipo se si trasformasse in un drago o qualcosa di comunque molto strano, perché una seconda fase ci sarà. E se la seconda fase fosse un'altra belva ancestrale, ma questa invece rossa e oscura, penso che non sia molto probabile, penso sappiamo ancora estremamente poco e penso di star lanciando freccette alla parete senza nessuna logica. E però se c'ho ragione è una figata. Sapete cosa mi sono dimenticato completamente di fare la scorsa volta? Di utilizzare le mie nuove armi. Le ho potenziate e le ho provate una singola volta durante l'intero scorso episodio. Ero talmente impegnato ad esplorare e a pensare alle cose che stavo incontrando che mi sono dimenticato di utilizzare completamente queste armi qua. Le proveremo un pochino meglio oggi. Come ho anche potenziato e preparato questa nuova arma. E penso che, secondo me, sapendo come funziona il gioco, sapendo le resistenze dei nemici, sapendo come fanno i sviluppatori, penso che questa arma qua farà cacare. Però nel caso non lo facesse, incontriamo un nemico che è praticamente debole al fuoco, potrebbe essere utile. Però no, solitamente il danno puramente elementale è poco buono. Ma la decisione adesso è dove vogliamo andare. Una cosa che non ho ancora trovato e che voglio trovare è non Legacy Dungeon, però io voglio dei Min Dungeon. Il fatto che siamo al terzo episodio e ho spavato un'area così grande e non ho ancora trovato uno, mi fa molto strano. Quindi io prendo la terza strada, torniamo al Crocevia Triforcato, come si chiama, e andiamo verso il lago. Anche perché ci dovrebbe essere il dipinto che abbiamo trovato la scorsa volta e voglio vedere quali sono i premi che ci potrebbero dare ed in generale vedere quali sono i reward. Potrebbe esserci cose anche importanti a livello di lore. E sì, cercherò appunto di utilizzare una nuova arma, ok? Ok. Tra l'altro l'ho provato un minimo, minimo, minimo. Penso che sia molto buona la sua abilità dell'arma. Il punto cieco è buono perché sia buono a livello offensivo. Credo faccia una buona quantità di danni da stabilità, che è super importante per gli occupaggiamenti nel derring, la stabilità. E penso che sia davvero semplice e veloce da utilizzare. Tra l'altro ogni singola runa che abbiamo ottenuto fino ad adesso nel direciso, ho dato le spese sempre e soltanto per comprare pietre da forgiatura, per potenziare le diverse armi che ho ottenuto fino ad adesso. È per me ancora assurdo il fatto... Uh, salve. Uh! Artiglione salvaggio. È per me ancora assurdo il fatto che per potenziare un'arma speciale, quindi con le pietre funere, ti bastano 10 pietre funere per portarla a livello massimo. Mentre una arma normale servono... Quant'è? Se non ricordo male è... 96 pietre. Una 10, l'altra tipo 96. Non ha molto senso. Io spero che in un impotentico Eldering 2 futuro, che secondo me arriverà non presto, ma arriverà, a un'altra gazzia, spero che stradizzino o almeno abbassino i requisiti delle armi normali. Ne ho utilizzate anche poche durante il gioco base e durante la prima run, proprio perché non volevo rischiare di potenziare l'arma sbagliata e poi dover consumare 90 pietre per fare una singola arma. Era un pochino troppo, a mio parere. Qua c'è un villaggio bruciato, un altro. Vabbè, penso che saranno un po' tutti dei villaggi bruciati. Riusciamo a vedere un pochino meglio anche quell'area là in alto, che adesso sembra ancora assolutamente irraggiungibile. Ah, e tra l'altro, ci stavo ripensando... Io non credo che saliremo mai qua sopra, perché non vedo nessun punto da cui potremmo raggiungerlo, non vedo nessuna struttura da cui potremmo uscire fuori, caso mai ci fosse un passaggio sotterraneo per entrarci. Non mi sembra che ci siano anche dei punti di interesse, quindi forse è la prima volta che vediamo un'area segnata sulla mappa, ma chi non ha un luogo da visitare. Perché veramente una cosa come questa qua sappiamo che non la visiteremo. Però questo poteva esserlo, ma a questo punto non credo. Visitiamo come prima cosa questo villaggino. Ci sarà sicuramente qualcosa, ma no, devo recuperare prima la cenere. Abilità utilizzata dai più arditi tra il manto rosso. dai manto rosso. E infatti se non sbaglio è raffigurato con lei, con... Come si chiama lei? Rayleigh. Silver King Rayleigh, non mi ricordo il suo nome. Eseguo una caperola in avanti e colpisce i nemici con un armamento. Premi di nuovo per eseguire un attacco supplementare. Questo voglio sicuramente provarlo. Sarà da testare come un po' tutte le cene da guerra, perché alcune del gioco base erano veramente OP, altre invece erano una merda. Villaggio sofferente, abbandonato. E vediamo per la prima volta degli esseri nuovi. Cacchio sei? E insettoide. Ha sei arti? Ha delle ali? Ma l'aspetto comunque umanoide. Mi ricordo ovviamente i servitori della marcia scienza, quelli con un sacco di braccia e che sputano gli schifi bianchi. Forse una versione meno evoluta di essi? Ci saranno forse qua dei informazioni riguardo a diventare la marcia scienza? Non lo so, ma c'è anche una fantasma qua per terra, che è il solito membro del... Sì, 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 è il solito abitante dell'ombra. Direi che è in procinto di trasformazione. Stavo pensando, se non danno qualche formazione in più, poteva sembrare sia un marcia scienza, sia fiamme. Però, detta così, sembra proprio in procinto di trasformazione. Credo che lo stesse per diventare una di queste creature qua. Va bene. Allora, villaggio da controllare. Ci sarà almeno un paio di oggetti, uno o due oggetti interessanti da vedere. Salve voi. Vediamo quanti anni comunque facciamo con quest'arma qua. Non sono male, eh. È anche abbastanza veloce. Funziona bene. Secondo me è una buona arma. Appunto, vorrei poi provare anche meglio fungo della mosca. Mi sa di marcia scienza, visto che sono funghi. Vorrei provare meglio anche gli artigli ferini, ma gli artigli ferini mi sembrano più lenti, meno danni e ancora più impegnativi. Quindi non saprei, però sicuramente vorrò provarle in futuro come cosa. Ed è pieno di loro. E volano! Non avevo fatto quelli di prima. Sei il primo che vola. Ok. Dobbiamo stare attenti allora, perché forse ci possono raggiungere anche in luoghi molto distanti e velocemente. Eh! Bene, buono. Dio santo! L'ho dimenticato di aver messo un timer. La quantità di jumpscare in queste qua è troppo elevata. Il fatto che siamo al quarto episodio e sono già stato jumpscareato, termine tecnico, diverse volte non è normale. Fungo della mosca. Una specie di fungo conosciuta per il suo mieloso odore irrancidito. Ottenibile cacciando le mosche umane. Si chiama mosche umane, mi piace che ci diano anche un nome specifico. Coltivato utilizzando la carne e il sangue delle mosche umane, può essere utilizzato come interiore ad un vaso. Chiaramente un materiale per i vasi, mi domando per cosa poi in futuro avrà utilizzato. Contriamo bene anche l'interno delle case. Qua troviamo già un oggetto, che è... Runa, ok, è inutile. Ci deve essere appunto qualcosa di qua. Solitamente quando visiti i punti di interesse di Eldering, c'è solitamente, soprattutto che si comparano in questo simbolo sulla mappa, a meno che non sia tipo un ponte, in questo caso qua non credo ci sia, ci dovrebbe essere sempre almeno tipo un forze o comunque un oggetto relativamente importante. Dobbiamo soltanto adesso riuscire a trovarle e capire dove si trova in questa area. Perché sono un sacco di casette semplicemente distrutte, ma non c'hanno molto altro di visibile. Non credo ci sarà un passaggio sotterraneo con un ipotetico boss. Sarebbe bello, perché siamo ancora sotto a un singolo boss. Secondo me, in realtà, non è per forza una brutta cosa, proprio perché in Eldering base c'erano forse un po' troppe boss fight e sicuramente molte ripetute, un po' troppo anche ripetute. Adesso è diverso? Adesso è diverso? Però stanno... Stanno disperando loro. Oh, che cacchio è? Che cacchio è? Oh, gli abbaffati! Ok, gli abbaffati, non è buono! Oddio, 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 oddio! Ok, 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 gli abbaffati, gli abbaffati. Ed è un nuovo potere questo qua, non lo conosco. È un effetto con luce nera e rossa. Ipotizzo che sia... Però abbatte la messa, ma che palle, oh! No, no, con mosche del genere è mog. Ah, mosche mog, è vero. Aiuto! Oddio! Oddio! Ma ma che palle ogni volta! Non ho tempo da che scalzare, ma che! Aiuto, basta, basta! Ah, ma gli cura pure sta roba qua! Ma what? Ecco perché non morivano. Porca vacca! Mosche mog, quindi, di nuovo? Perché appunto l'incantesimo con le mosche che ti seguono e che causano sanguevento è... Un, se non sbaglio, incantesimo che trovi da mog e ne adiense di moguin. Questi cadavri... Molto belli. Sembrano... Uomini... Viscidi... Pelati. Non pelati nel senso che non c'hanno i capelli. Pelati nel senso che hanno pelato la pelle. Come se fosse... Pelare una... Mela. Vediamo? Qua dentro c'è qualcosa? Come no? Pensavo di ottenere... Da qualche parte l'incantesimo che stava utilizzando lui. E tra l'altro è la prima volta che vediamo un membro delle terre dell'ombra, un abitante delle terre dell'ombra. Uh, che bello da vedere da qua. Che utilizzava una stregoneria che non fosse quella della morte, solitamente se per i teschi che ci inseguono, ma... Le mosche. Talismano dell'alterazione. Hey, nice. Aumenta resistenza all'ultima alterazione subita. Dunque dovuti il zemo. Talismano raffigurante un'anima malata. Se contratto da una persona debilitata, il temibile morbo della mosca ne provocava il decesso molto prima che la metamorfosi potesse prendere piede. Curiosamente, chi si prendeva cura degli infetti e dava loro una degna sepoltura, non contraeva la malattia. Non so cosa mi significa tutta sta roba qua. Il morbo della mosca è una cosa nuova. A questo punto penso di collegarla a Mog, ma non abbiamo mai sentito parlare niente di vagamente simile. Neanche nel gioco base. La maggior parte delle persone morivano di decesso prima che la metamorfosi si potesse anche completare, come probabilmente la pila di cadavere che vediamo qua dietro. E chi si prendeva cura degli infetti e dava loro una degna sepoltura, non contraeva la malattia. Come se la malattia avesse una sorta di logica, una sorta di libertà di scelta, e se tu onoravi i morti, non ti attaccava e non ti colpiva. E probabilmente lo stavano, l'è tutto bruciato al posto proprio perché stavano cercando di purificare le terre dell'ombra da questa malattia qua. Stavano cercando di liberarsene, di fare in modo che, uh, salve, che non si potesse espandere ancora, che potesse infettare altre persone. Qua però ci sono altre mosche e, ma qua non è male, non è assolutamente male. Penso che probabilmente quasi ciotteremo con lo spodone di cita, però non è male. Cene di spirito venerate. Quindi non solo un oggetto, ma anche cene di spirito. Te che cosa sei? Piranissetto nero, nulla di importante. Non so se i piranissetti neri mi dovrebbero significare appunto il fatto che sono un luogo in cui è passato in passato Mesmer. E sono, diciamo, una sua impronta. Come c'è l'impronta di Michela con le croci, che sono evidentemente sue, forse è un'impronta meno ovvia e meno evidente. Potrebbe essere. Non credo ci sia comunque nient'altro a visitare nel villaggio, quindi andiamo in un'altra direzione. Vogliamo adesso cercare di raggiungere il luogo dove potenzialmente è stato dipinto il dipinto della scorsa volta? Credo sia in questa direzione qua comunque. E qua siamo anche vicino al laghetto. Quello che vedevamo non posso finire appa perché mi hanno visto dei nemici prima. E... Oh, quello è un drago! Quello è un drago? Quello è un drago! È un drago di morte, tipo. Ok, buono sapersi. Va bene. Tanto sta piovendo. Quanto danno faccio con quest'arma qua? Non molto. Quanto danno faccio con quest'arma qua? Beh, va bene. Direi che... Non penso che sarà molto forte ma voglio comunque provare a tirizzarla. Secondo me le ampolle di profumo saranno più che altro utili per testare le debolezze elementari dei nemici. Se casomai troviamo un'ampolla di ogni elemento, posso entrare dentro la boss fight, testare ogni ampolla, vedere quale di queste fa più danni e capire la debolezza dell'avversario. Il problema di nuovo è che la maggior parte dei boss sono resistenti agli elementi ma non resistenti più di tanto al danno fisico. Quindi come sempre la soluzione migliore è arma puramente fisica. Che è un po' peccato secondo me. L'unica vera grossa eccezione sono i... I necro rapaci dove se gli colpisci anche soltanto con un vaso sacro, anche se non utilizzi miracoli e non c'è niente, gli vettiamo metà vita con un singolo vaso. Quello forse è un po' troppo. Runa del Regno dell'Ombra 1. È la stessa descrizione del Runa del Regno dell'Ombra 2, però le abbiamo tolte davvero poche finestre di rune in generale per questo regno qua. Che di nuovo anche questa potrebbe avere un certo importanza a livello dell'Ombra proprio perché forse non c'era molte rune, non c'era molta grazia, non c'era molto influenza dell'albero madre. Qua ci sono... Delle gabbie. Delle gabbie? Oh! Mini dungeon! Mini dungeon! Primo mini dungeon del DLC. Spero che abbiano fatto... Ecco, appunto, stavo dicendo anche prima. C'erano diversi boss che erano un po' troppo ripetuti, sicuramente. Anche alcuni tipi di mini dungeon erano un po' tanto ripetuti. A un certo punto delle catacombe, dicevi cacchio, queste catacombe sono tutte un pochino simili con gli altri. A un certo punto delle caverne, dicevi cacchio, tutte queste caverne sono un po' simili con le altre. Per questo in realtà alcune delle più memorabili per me sono quelle del... Paradossalmente l'area per tutta del gioco e i campi consacrati. Perché erano fatte di ghiaccio, hanno un'estetica differente. Poi il livello di gameplay erano simili, però... Già semplicemente cambiare l'estetica fa davvero tantissimo. Prima di entrare però voglio un secondo finire di controllare l'area qua attorno. Perché tanto è un veloce circunnavigare a questo lago. Non ho ancora visto il dipinto, che quindi devo recuperarlo in ogni caso. L'abbiamo mancata come cosa, deve essere da qualche parte, comunque. Qua è pieno di loro. Qua ti posso vedere per bene almeno una volta. Ogni altra volta scappavano via. E loro non si muovono per niente. Sembrano quasi anche loro dei golem. Sembrano prendere vita quando ti avvicini abbastanza. È come se attivasse il loro meccanismo di difesa. Perché prima non respirano neanche, sono proprio fermi. Non si stanno attivando neanche. Ok. Se non devo combattere io non lo faccio. Curanza dell'uccello becchino. Uh, ok, 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 ok. Attenzione qua però adesso perché ci saranno pieno di loro. Quindi dobbiamo stare full vita tutto il tempo. Vai! Mi piace questa arma, è molto bella. Mi piace un casino questa arte qua della spada. È un ottimo modo per approcciare l'avversario. Lo stagger abbastanza per poi poter iniziare una combo. E' davvero facile da utilizzare. Corazza di pietra con sfumature verdi. Parte dell'armatura completa dell'uccello becchino. Quindi loro si chiamano uccelli becchini. Gli uccelli becchino sono antichi golem, appunto, creati con il compito di custodire sepulche spiritici dove confluiscono i defunti. Siamo in un regno dell'ombra, della morte. Questi qua sono i sepulche spiritici dove confluiscono i defunti. Qua in qualche modo ci arrivano i morti. È un regno della morte in un qualche modo. Forse non letteralmente, ma la cosa più vicina a esso che si può avere in Elden Ring. Può avere la conferma. Lo pensavamo sin dal prima Key Art che rivelava l'esistenza del Dileci stesso. Perché appunto sembrano un po' anche campi Elisi. Campi Elisi? Elisi? Con tutte le spighe di grano e le tombe fatte in questo modo qua. Però non avevamo mai avuto una conferma. Non era anche mai stato veramente trattato l'argomento. Però questa più possibilità anche che venga approfondito Godwin. La morte fatidica, argomenti del genere. Di cui, se lo fanno, let's fucking go. Perché sono anche di quello lì curiosissimo. Vorrei sapere di qualche cosina in più a riguardo. Ok, qua abbiamo praticamente finito di circunnavigare l'area. C'è qua una capannina. Vediamo. C'è un oggetto però, c'è un oggetto però. C'è un oggetto però. Recettario del sonopotentato 10. Nice! Vaso di mosche grande. Che adesso potremmo probabilmente anche craftare. Visto che abbiamo quell'oggetto lì. Sì, ed è quello che causa ovviamente sanguinamento. Ok. E allora finisco di girare il lago. Cerco il dipinto. E poi mi sa che si va nel mini dungeon. Logicamente dovrebbe essere fatti qua. Lo stavo dicendo in questo istante. Eccolo. Oh, l'oggetto è scompasso davanti. Scudo con stemma di serpe. Scudo rosso di pregevole fattura decorato con l'incisione di uno serpente alato. Efficace nel respingere il fuoco. Si dice che si è stato afforgiato per commemorare gli inizi della crociata intrapresa da Mesmer. Figlio di Maika. Ok, non dice molto a riguardo purtroppo. Voglio sapere se Mesmer e Maika vanno d'accordo. Voglio sapere se sono amici, nemici o cosa. Serpente alato che tra l'altro è il serpente che ha Mesmer addosso. Mesmer addosso a un serpente bicefalo con delle alette attaccate. Va bene, ci siamo qua. Siamo pronti al probabilmente il primo mini dungeon? Sì, perché c'è pure questa cosa qua. Yes! Finalmente abbiamo trovato uno. Come si chiama? Dove siamo finiti? Cos'è questo posto? Catacombe? Caverne? Uh. Prigione di Belurath. Belurath è un nome che non conosciamo. Potrebbe anche non significare niente. Ma è una prigione. Il che ci fa pensare veramente che alla fine ci sarà un boss di qualche tipo. La domanda è quale tipo. Posso potenziare giusto quelle ceneri? Sì. Le ceneri quindi richiederà sempre e soltanto una singola cenere per essere utilizzate. Va bene, ci sta secondo me come cosa. No, invece sono due. Mi rimangio quello che ho detto. Non che lo sfruttiamo troppo le ceneri di spirito venerate perché non utilizziamo evocazioni. Sono utilizzato per teorente stesso. Però è comunque bello da avere. Oh, mini dungeon con estetica originale, bella e nuova. Voi vi immaginate tutto un Eldering fatto? Oh mio Dio, ma le cose ghiacciate, le prigioni ghiacciate del villaggio di Bonnie? Con i vasi al loro interno? Questo è il villaggio di Bonnie, vuol dire? Il dungeon è il villaggio di Bonnie? Fammi rileggere questo. Prodotti e sommi potentati del villaggio di Bonnie che li conserva una prigione ghiacciata. Questa è la prigione ghiacciata. Ah, comunque stavo dicendo. Quanto sarebbe incredibile avere tutto Eldering con una roba ogni singola volta così originale. Sarebbe davvero fuori di testa. Onestamente non me l'aspetto. Penso che un certo livello di ripetizione, uno, onestamente non sia un difetto. Penso che un minimo di ripetizione in realtà possa essere anche un bonus. Perché dà un senso di familiarità e dà la possibilità comunque di alzare piano piano la difficoltà del... Terme congelato. I concept del gioco, però a vedere sempre una roba differente, davvero, davvero molto bello. Verrà mio congelato. Sapete come è un gioco che sfrutta la caratteristica di fare sempre, sempre, sempre qualcosa di diverso, introdurre sempre nuove meccaniche, sempre diverse estetiche, sempre cose del genere? È Mario Galaxy. Mario Galaxy è particolarmente buono secondo me da quel punto di vista. Però appunto il difetto di Mario Galaxy che alcune volte... Mi piace il game design. Alcune volte proprio perché ogni singola volta viene cambiato il concept del livello e viene cambiato il tipo di cosa che vai fare nel livello, non puoi mai approfondire maggiori livelli di difficoltà e ritirare su concept precedentemente introdotti durante il gioco. Quindi penso che appunto alcuni livelli di ripetitività anche all'interno del videogioco siano importanti. Motivo del perché giochi come i Rogue Like hanno così tanto successo, visto che sfruttano la ripetitività come il loro punto più forte in realtà, proprio la loro peculiarità importante. Però rischia anche di andare poi nel lato sbagliato e dire Oh porca vacca, questo è il quattro dicesimo drago di magma che sto combattendo, mi voglio sparare nei coglioni. Devi trovare la V di mezzo secondo me che è la cosa migliore. Detto ciò, che figo è stata qua che è completamente nuova! Verme congelato. Verme che continu... Ipotizzo che lo utilizzo per creare appunto i vasi grandi di ghiaccio. Verme che continuano a contorcersi anche se congelati. Reperibili soprattutto nelle prigioni. E quindi ce ne saranno anche altre. I vermi proliferano all'interno di grandi vasi e rappresentano una preziosa funda di sostentamento per i prigionieri. Ok, va bene. Tanto, per spiegarvi comunque per chi caso mai... Potrebbe esserci qualcuno che sta guardando se sei qua come la prima serie del mio canale? Perché contro ogni mia aspettativa i primi video sono andati in tendenza. Grazie YouTube, ancora non so come funzioni. Oggi spuremo nel dettaglio per bene approfondendo tutto di questo mini dungeon qua. Ma se in futuro si ripetirà a livello di estetica, nemici al suo interno, ambientazione e tutto... Gli velocizzeremo molto a livello di editing in modo che i video comunque siano pieni di contenuti e sempre roba nuova e differente. Ma oggi, visto che è nuovo, col cacchio che lo taglio. Questo è super importante. Oh, mio dio, è profondissimo. Vermia congelato. Non l'ho visto che si andava così tanto in basso. E quello è un nemico che credo sia nuovo. È un sacco di botti di Bloodborne? Non lo so, da qua mi sembra un sacco di botti di Bloodborne. Uh, 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 uh. Ipotizia di qua troveremo anche di altri vasi da raccogliere per poterne craftare più di uno. Ok, penso che il nostro obiettivo sarà andare fino a là in basso, quindi dobbiamo solo e soltanto scendere. In fondo ci sarà molto probabilmente una boss fight. Da qualche parte ci sarà probabilmente un oggetto segreto relativamente importante. Non so se ci sarà ancora qualcosa di nuovo, visto che è il DLC. Qua si va avanti, giusto? No? Non vedo nient'altro. Sono già pareti illusorie? Si, mi sembra be' strano. Ho sbagliato strada? No, devo passare verso questa parete qua? Oh, pensavo fosse una finestrina per vedere un punto più avanti, ma no. È stata per andare avanti. Tra l'altro, ma a Bambini non piace il freddo. Tutti i suoi tentacoli stanno iniziando a infreddolirsi, a irrigidirsi. Non è flessibile come in zone calde e in zone ben umide per la sua pelle, per la sua carne. È un luogo da cui voglio uscire il più fredda possibile, idealmente. Contiamo dritti. Qua dentro ci sono... Per adesso sono tanto nemici base. Però c'è comunque da dire che se ci sono loro, vuol dire che erano loro i prigionieri. Erano loro quindi tenuti qua dentro e che erano visti come prigionieri stessi. Che non era comunque confermata come cosa. Vengono trattati davvero male questi esseri di ombra. Che a questo punto probabilmente sono anime delle persone provenienti da... Forse sono proprio le anime che si reincarnano attraverso l'albero madre. Forse le persone che muoiono in quel modo finiscono nel reame dell'ombra. Visto che l'albero di ombra dovrebbe essere l'ombra dell'albero madre. Le persone che arrivano qua ci finiscono in questo modo. Mentre se muori normalmente... Muori e punto, potrebbe essere. Però qual è il vantaggio? Perché quello era in parte... Se è così, non è detto eh, come cosa. Quella era in parte l'obiettivo della volontà superiore di Marika. L'intero concept comunque di quello che stavano andando a fare era probabilmente... Forse con l'obiettivo di fare quello in qualche modo. Ma non abbiamo mai capito del perché veramente volessero far rinascere le anime attraverso l'albero madre. E perché ci fosse quel culto e quella cosa così importante dell'ordine aureo. C'erano delle ipotesi ma non è nulla di concreto. Se ricevano conferma qua e questo qua è dove finiscono le anime... Avrebbe senso. Gli mettono quindi dentro i vasi loro? Vengono messi loro stessi dentro i vasi? Uh, che bello. Questo era visto nel trailer del DLC. Mi ricordo la stanza blu con i vasi appesi al soffitto ed è questa qua infatti. Non avevo capito che fosse ghiaccio però questa area qua. Non avevo capito però che fosse ghiacciata questa area qua. Non sembrava per niente dal trailer. Guardate, tutto a posto? Fammi fare così. Ok. Qua sotto si può scendere? Oh mio, bisogna fare platforming sopra i vasi stessi. Oh no, no, il mio cerrimo nemico. Il boss finale dei giochi di FromSoft e la gravità. No. È un problema questo qua. Non vorrei perdermi la mia runa maggiore. È la mia effetto della runa di Morgoth che mi dà ancora più punti vita. Mi sa che dobbiamo scendere per andare avanti. Ma qua almeno c'è un oggetto che possiamo recuperare. What the fuck? What the fuck? Non è un sacco di botte. Non è un sacco di botte. È in... No, sì. No, no. Oddio, oddio. What the fuck? Ok. È molto alla Bloodborne ma non è quello che mi aspettavo io. Ok. Ah. Per un attimo mi sembrava anche i... I servitori... Quei LAN di Dark Souls 1. Quelli con le pustole sulla schiena. Però no. Si tirano in piedi e fanno... Una mossa alla The Binding of Isaac. Dove ti colpiscono con... La carne che si apre. Ok, andiamo avanti. Runa del Reino di Lombra 3. Prima volta che ne incontriamo una di livello 3. Chissà se i nemici dell'area saranno deboli al fuoco. Forse per i boss di questa area qua dovete stare al fuoco. Vi si sembra una zona con il ghiaccio. Forse avrebbe senso come cosa. Ok. Qual è la strada giusta per andare avanti? Ipotizzo questa. Avevo visto però un oggetto. Come lo raggiungo non lo so. E come cado qua senza cadere... Senza sbagliare non lo so neanche. Ok. È abbastanza vicino o no? Devo correre o no? Forse devo fare soltanto un saltino? Devo fare soltanto un saltino. Ok. Ok, ok, ok. Ok. Ok, 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 ok. Oh. Vaffanculo. Ma che cosa significa sta roba? Ma che cosa significa sta roba? Non cadere sotto. Oddio la catena. Perché le catene sono tangibili? È una cosa cattivissima. Ci posso arrivare fino là in fondo secondo voi? Non lo so. In ogni caso non credo di morire da danno alla caduta quindi controllo. No, non ci arrivo. E invece sì, moro di danno a caduta. Ok, non cadere. Lo devo rifare di nuovo adesso, maledizione. Mi sono ecopaggiato comunque l'ammuleto che casomai non mi fa perdere le rune se muoio. Vorrei comunque avere la possibilità di craftare delle altre armi se necessario. Là c'è un forziere comunque. Vediamo come lo raggiungo normalmente. Prometto da di qua. Devo comunque scendere qua sotto. E poi devo saltare da qua fino a lì. Però se lo faccio non posso prendere le rune. Va bene, facciamo così. Allora prendiamo le rune prima. Poi tornerò in dieta a controllare quell'oggetto lì. Perché là c'è qualcosa. Vedete, sì, lì c'è un forziere. Arcipigna. Va bene, ci pensiamo dopo. Ciao piccolini vasi. Come state i vasetti? Siete carini e belli come sempre? Siete aggressivi? Sono aggressivi. No! Perché dovete essere sempre aggressivi i vasetti? Siete così carini. Siete così simpatici. Dovrei comunque prima o poi andare a controllare se ci danno qualcosa i vermi blu che abbiamo trovato in passato. Però non vorrei farlo ancora. Non vorrei ucciderli, poveretti. Sono così belli. Non danno niente di nuovo, ok. Poteva comunque potenzialmente troppare anche il nuovo vaso per craftare i vasi grandi. Però non è stato il caso. Salve, salve, salve. Devo uccidervi in fretta perché non mi piace come cosa. Se faccio questo... Non è male, eh? Non è male in realtà così. Lui sta venendo abbastanza stalloccato da questa mossa. E tra l'altro questo adesso mi rimane soltanto uno. Volevo evitare che mi colpissero tutti insieme e mi distruggessero in quel modo. Vorrei vedere un pochino meglio. Oddio! Ha una faccia... Da donna con capelli lunghi tipo? Sembra di sì. Sei in metamorfosi di qualche tipo? Sei uno di quelli che sta sfumando in un uomo mosca o non c'entra niente? Forse no, è... Ho appena capito cos'è. Non so perché non avessi capito prima perché l'abbiamo visto letteralmente succedere. È l'interno dei vasi. Dentro i vasi c'è quello. Semplicemente non erano ancora, diciamo, tutti uno col vaso, facendo uscire le loro arti attraverso il vaso stesso. Ma è il vaso scoperchiato e loro crescono fuori. Ok, posso fare un backstab? Posso fare un backstab? Ok. È molto meno carino adesso Alexander e il villaggio di Vasburgo. Sapevo che dentro c'erano cadavri, sangue, carne e schifo. Però vederlo effettivamente vivo, muoversi e combatte è un'altra cosa. Uh, vasone! Vasone! Oddio, vasone! Oh, oh, oh! 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 In qualche modo è di nuovo carino in parte. Appena ci metti sopra un vaso ti torna a diventare un po' carino. La parte sotto è orribile, però la parte di vaso è bella. È tipo combattere un pagù in questo modo qua. Si spaccherà, vero? Si spacca, sì. Ok. Non aspettavo. E... Ah! Quest'arma qua è davvero buona per quello che sto provando adesso perché ha un buon range. Una cosa che hanno come problema diverse armi del gioco è che i nemici hanno degli hitbox molto precise e ogni tanto un po' scomodi da far funzionare. Non si è spaccato. Ok. Quest'arma qua proprio non ha quel problema lì in nessun modo. È davvero, davvero... Ottima da questo punto di vista. Perché attacco verso davanti e fa questo range qua. È molto buona. Cosa che invece lo spondone decida ogni tanto. Abbiamo visto pure lo scorso episodio contro i cani. Il cane è davanti a te e fa casino e manca. Questa arma qua è buona per essere sicura di colpire l'avversario. Non è detto che la terremo per sempre. Se in futuro troviamo una versione di questa arma ancora più... Questo mi ha fregato. Una versione ancora più fina di questo tipo di armi qua. Un'altra spada rovesciata ma... Non so, speciale. Di un boss. O qualcosa del genere potremmo utilizzare quella. Però per adesso questa è una validissima opzione. Molto molto carina. Potremmo anche potenziarla ancora di un pochino. Potrebbe arrivare al più 25. Però non mi ricordo se posso... Mi sembra di no. Non posso comprare all'infinito le pietre antiche di tir. Però potrei anche farlo. Tanto ne ho tipo ancora 7 nell'inventario. Non pensarebbe alla fine del mondo. Ok, non pensavo che saremmo arrivati fino a qua. Oddio, ma non ho visto neanche arrivare. Attaccato al soffitto, ma che era? Che buono. Hai visto? Lì ho evitato il suo attacco. E l'ho colpito a mia volta. È davvero molto buona come arma. È davvero molto molto buona. C'è anche roba qua in alto. Mi devo anche esplorarle in modo verticale di in 3D. Oh no. Dove sto andando? Ok, non si arriva così. Non so più dove sono, eh. Se vi sentite disorientati... Lo sono anch'io. Quindi non so dove sto andando. Qual è il metodo per andare allora là sopra? Ci deve essere un metodo normale. E sicuro. Vediamo dov'è. Uh, droppa. Sarà carne. Interiore. No, è un tipo di carne nuova. Oddio! Lesce fuori ogni due secondi. Uh, eccoli qua. Ecco come si raggiungono. Interiore di nuovo. E l'oggetto che vedevamo è... È raro. Yes! Un altro! Yes! Interiore. Lancia ai nemici per infliggere danni. È una... È una cosa da lanciare. Prandelli di carne conservati in grossi vasi. La carne rosacea freme per gli spiriti rancorosi che ancora l'attanagliano. Queste da sorti riversate condannati che vengono fatti a pezzi e rinchiusi dentro i vasi. Dove raggiungono la santità. Tra l'altro mi sembra di vedere in quell'interiore un filamento dorato. I centipedi dorati che bene erano quelli dell'ordinario. I fondamentalisti dell'ordinario. Bene, lascio un oggetto. Andiamo a far sortire allora. Forse non ci sono ancora stata, vuol dire. Vediamo. Però c'è già passato e ho mancato qualcosa. No, no, no. Questa roba nuova. Mi sa che questo era il modo per uscire da questo luogo. Ok, buono. Controllo meglio il labirinto per vedere se ho mancato qualcosa. Oh, c'è un oggetto. What? C'è anche un nemico. Non l'avevo trovato tutto, infatti. Ho controllato tre volte. Ho fatto il giro tre volte e non l'avevo ancora trovato a questa parte qua. Come è possibile non avessi visto un nemico gigante rosso che girava quattorno? Ma ci sono già passato? No, non mi sembra. È davvero difficilissimo orientarsi perché è tutto uguale. Ma è un vicolo cieco. No, c'è ancora altra roba. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Questo era importantissimo pure. Per fortuna non l'ho mancato. Leggiamo tra l'altro. Vaso congelato grande, certo. Quanto mi piacciono gli artwork di Elden Ring. Mi dispiace che non siano più grandi. Sarebbe stato più bello se... E' ridimensionato alcuni aspetti della grafica e dell'HOD quando apre il menu. C'è tempo per Elden Ring 2. C'è tempo per Elden Ring 2. Dai, dai, dai. Boh, forse resta la quadro dove spararlo con le pietre prismatiche per essere ancora più sicuro di aver controllato tutto. Maybe però... Non mi eravamo venuto in mente. Ho pensato fosse così complesso da controllare semplicemente un'area del genere. Oh, guardali che carini. Chissà cosa c'è a loro interno. Poveretti piccolini. Quanto possiamo ancora scendere? Credo siamo al punto più basso. Non penso che possiamo andare più in basso di così. Ancora. Vai. Stabilizzalo. Ok, buono. E anche lui è andato. Come sempre mi darei soltanto classica roba. Peccato non mi diano anche lui adesso l'interiore. Sarebbe stato interessante se avessero andato anche loro per, caso me, confermare ancora di più il fatto che sono la stessa cosa. Così penso di sì. Penso del gioco mi sto dicendo quello. Però avere una ulteriore conferma per me è sempre super importante perché poter dar per scontato qualcosa e non avere dubbi a riguardo è fondamentale in giochi del genere dove devi... Hai sempre così tante domande. Aia. Addio. Ok, dove siamo quindi? Siamo vicini alla fine? E allora dov'è il boss? Che mi sembra strano che abbiamo ancora incontrato. Ovviamente loro sono nemici, certo. Domanda. Potete attaccarmi da oltre il passaggio o siete stupide e vi buttatevi sotto? Come funziona? Possono passare. Può sapersi. Però va benissimo così. Comunque li abbiamo divisi. Diventa più facile gestirli adesso. Ci siamo levati quelli piccoli e ci possiamo levare a quello grande. Comunque sono una scelta intelligente da parte mia. Buono. Incredibile, ma benvidi e combatte con il cervello. Ma che è sta roba? Ok, giù. Giù. Siamo a 300.000 rune comunque. Penso che possiamo fare finalmente un livello. Perché per un livello mi chiede 250.000 rune adesso. Ma non so neanche se lo faremo. Boss! Aspetta, ci sarà una statuetta di marca, vero? Perché se ogni volta che muoio devo tornare fino a qua. Signore Elder Ring è un po' lunghina la strada. Faccio un po' fatica a tornare qua ogni singola volta, no? Sarebbe un po' lunga la strada. Spero che ci sia una statuetta di marca giusto per non dover rifare ogni singola volta tutto. C'è, 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 c'è. Mua! Mua! Marica! Mua! Per le tette di marca, c'è una statua di marca. Per fortuna. Quindi adesso che siamo comunque con meno punti vita, con soltanto 5 ampolle e tutto, non siamo in una situazione così tragica. In ogni caso. Va bene. E allora mi castrei comunque, va. Fotoaureo. Fiamma, donami forza. E ci siamo. Cosa andiamo a combattere? Chi incontriamo? Un uomo a vaso? Maestro d'armi semi-umano 11. Ok. 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 Che cacchio sei? Che cacchio sei? Che cacchio sei? Che cacchio sei? Ok. Causa assideramento lui, eh. Potrebbe essere molto debole quindi al fuoco, come abbiamo upotizzato prima. Però questo sta funzionando, quindi continuerei. Finché roba del genere funziona, non vedo perché dovrei cambiare la strategia. Oddio! È una presa! Ah, danno... Medio-basso. Ok, questo è alto invece come danno. Non riesco a seguirlo con la inquadratura per bene. Dobbiamo stare attenti a non venire... Inculati, come si dice, frizzati. Non riesco a prenderlo. Porca vacca, eccolo qua. No, 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 dammi la cosa giusta! Non ci credo. Se muoio per questo mi arrabbio. Se muoio per questo mi arrabbio! What the fuck? What the fuck? What the fuck? What? Quella era la Waterfowl! Easy first try! È buona ma è stamma. Secondo che stamma è buona. Quella era la Waterfowl! Tra l'altro, primo semi-umano che incontriamo nel DLC. Non l'ho visto benissimo da vicino, ma mi sembra proprio con estetica alla bocca. E con una spada strana. Evoca, ospito, spadacino, semi-umano, Yoshmi. Chiede 129 PA, che sono tantini. Un zè, un maestro d'armi che votò la propria vita alla spada siderale. Comprese che al termine della processione di stelle si scelava una rovinosa minaccia e si isolò allo scopo di impedirla. Tuttavia, Yosh, un apprendista che aveva acquisito la sua tecnica, si rifiutò di dare ascolto alle parole del maestro e trascorso tutta la sua vita al suo fianco nella sua segregazione autoinflitta, sino al termine dei propri giorni. Comprese che al termine della processione di stelle si scelava una rovinosa minaccia e si isolò allo scopo di impedirla. Processione di stelle. Per questo che Radana ha anche fermato le stelle? Dopotutto ci deve essere una ragione del PA che comunque dobbiamo sconfiggere Radana prima di entrare nel DLC e non soltanto battere Mog. I due requisiti per entrare nel DLC sono battere Mog e battere Radana. Radana fa muovere le stelle, quindi chiaramente serve il moto delle stelle per attivare gli eventi del DLC. Dobbiamo capire il motivo. È per questo rovinosa minaccia alla fine delle processioni delle stelle? Bel dungeon comunque, eh? Molto carino come dungeon. Però ci sono delle cose che abbiamo mancato. Vorrei vedere se possiamo raggiungere in qualche modo il vaso gigante e sappiamo che c'è un forziere che ci manca. Quindi, torniamo all'ingresso, riposo e poi cerchiamo di recuperare quella roba lì. Ok, platforming, non mi fregare. Non mi fregare. Non mi fregare. Ok. Ok. Vorremmo aver fatto? Yes! Ah, non so mai che con lui mi uccideva per danno alla caduta. Non mi fido adesso dei danni perché qui l'altro mi sembrava un'accavuta tranquilla e invece non lo era. Vediamo cosa c'è dentro il forziere. Speravo cose di figo. Salve. Hello? Hello? T'altro. A questo punto testiamolo. Voglio testare entrambi gli oggetti che non abbiamo ancora mai provato. Sia la spirale di fuoco. Buona. Buona. Su cosa scala? Scala su? Fede. Buonissima per noi, tra l'altro. Facciamo danno da fede. Eh, di nuovo, è meglio questa roba qua che forse che i nostri incantesimi. Prova bene. E interiore. Meno buona. Su cosa scala l'interiore? Nulla. Il posizio è che faccia però dei danni da sanguinamento, quindi forse è un modo per continuare a tenere alto sanguinamente l'avversario anche da distante. Potrebbe essere. Forziere. Scusa, c'hai le tele dentro? Va benissimo, va benissimo, va benissimo. Spero di un oggetto nuovo, ma questo mi va più che bene perché possiamo iniziare a captare roba e avere la pronta elementare. Nel caso. E vado a vedere se posso raggiungere anche il vaso, ma non credo, onestamente. Eh, non vedo un modo per andarci. Quindi dobbiamo gettare la spugna per adesso? Non c'è un modo per andarci? Va bene. E allora, facendo qua. Penso che non ci sia nient'altro qua dentro, quindi possiamo andarcene così. E allora, se vogliamo concludere l'episodio in modo particolarmente interessante, io mi ricordo che abbiamo visto verso l'inizio episodio che qua nel mondo esterno forse possiamo finalmente incontrare nostro primo boss dell'overworld. Non sarebbe male andarlo a combattere adesso, no? Utilizziamo questo. E siamo pronti per il boss. Che di nuovo, credo sia un boss. È già successo in passato che credo ci sia un boss nell'overworld e poi non lo era. Ma quello è un drago, penso proprio che sarà una boss fight. Che quindi probabilmente dobbiamo colpire al suo parla testa. Sicuramente il loro punto debole. Ok, forse dobbiamo combattere sul torrente, potenzialmente. Potrebbe essere più safe come cosa? Non saprei. In ogni caso direi di castarmi le abilità e quello che ho e poi di andare ad attaccare. Però è abbastanza vicino in modo da non specare il tempo di funzionamento. Quanto cambia il colore dell'ambiente? Cambia davvero un sacco qua. Ok, facciamo da qui. Potenziati con la roba, potenziati con la roba. Prendi l'arma a due mani. Corri fino a qua. Corri fino a qua, corri fino a qua, corri fino a qua. Colpisci la testa? Ok, presa. Drago della fiamma spettrale. Drago della fiamma spettrale. Spettrale? Ok, non vi faccio danni. No buono, no buono. Però è un classico drago. Ha semplicito un'estetica completamente differente. E vuol dire puntevole sia la testa. Sicuramente puntevole alla testa. Mi domando come colpirà con le sue fiamme. Saranno fiamme spettrali? Sì. Ok. Quindi anche lui causa assideramento. E però non prendo bene con quest'arma qua. È buona per range in quel modo, ma non verso l'alto. Aiuto. Aiuto. Oh, 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 mossa nuova, mossa nuova, mossa nuova. Non c'ho neanche passato questa mossa qua. Ok. 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 Voglio quanto è resistente. Oh, ho un po' la sbagliata. Ok, prendi la testa. Ma la testa non gli fa molto danno. No. Ok. Colpisci la faccia. Come on. Ma invece, ok, no, fa più danni, fa più danni, fa più danni. Non so perché mi avessi mancato in qualche modo. Corri, 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 corri. Ah, merda. Ok, va bene, va bene, va bene, va bene. Oh, l'ho disabilizzato? L'ho disabilizzato. Nice. Nice. Ok, riposto pure. Danni. Decenti, sei mila. Non è male. Non è male. Ok. Mi allontano, 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 mi allontano. Ok. A me non lo conosciamo come combattimento, ma bisogna comunque stare attenti. Perché può fare roba strana Che non conosco Non so se attacchi colpiscono per terra Tipo adesso Se ce l'ha Ah è un pestone Che fa quell'effetto lì Ok 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 dove sta Oddio grazie torrente Continua a colpigli le caviglie Perché purtroppo Faccio fatica a colpigli la testa Vai 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 Ah fa subito così Porca vacca Dove Dove No 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 Era molto torrente Io odio chi mi richiede di Mi chiede la conferma Se voglio curarlo o meno No 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 Non ci credo Ma che se la conferma L'ha fatto sprecare due ore Era fatta Maledetto torrente Che mi chiedi la conferma Se solo ci fosse un'opzione per dirgli Se clicco torrente Aivoca il mio torrente Invece no Devi sempre confermare E cliccare un menu Mentre combatti Maledizione Forse Spadonecina Sarebbe migliore qua Maybe Spadonecina Qua è meglio quello probabilmente Sperando che sia debole al fuoco Oh Volevo andare a recuperare le rune Giusto prima di fare un altro tentativo Ma ho raccolto poi un giotto per terra Senza Pensarci Catana gigante Poi la leggiamo No 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 un secondo Un secondo Drago dammi un attimo Devo Devo prepararmi bene Devo sopposite le rune Foto aureo Fiamma Ampolla Arma due mani E si corre in questo modo qua Adesso Vediamo Andrani facciamo Sperando che siano decenti Andiamo Sono buoni Sono buoni Assolutamente sono buoni Se riesco a colpigliare la testa Vi facciamo parecchi danni anche Potremmo anche combattere così Non è una bruttissima opzione Però Per un nemico del genere È chiaramente migliore Una build di questo tipo qua Perché Non riesco a colpigliare la testa Nell'altro modo No Che cavolo No E che cavolo Vieni qua No Vieni qua Preso Buono Mille danni Un singolo colpo È buono Non è orribile Mi riesco a stalloccare Purtroppo No Troppo tardi Eh c'è tutto questo Anzi E non mi sparare fuoco Non mi sparare fuoco Ok Artigliata può andarmi anche bene Dove vai Dove vai Dove vai Dove vai Dove vai Cosa fai Cosa fai Chi sei Chi cosa fai Chi sei cosa fai Chi sei cosa fai Ok buono Aiuto Aiuto Non so cosa facendo Non so cosa facendo Uh Ti farò fare questo No Troppo lento Come sempre Troppo lento Come sempre Oddio è velocissimo Pensavo ci mettesse più tempo A farlo Ah cagare Ho usato poche cure Proprio adesso Quindi In realtà non sta andando malissimo Però non sono riuscito A fargli super danni Prò perché Continua a scappare via A fare queste cose qua Che gli muovono troppo la testa Non c'ho molto spazio Per colpirlo E questo è difficile Evitare Non so come fare Non so ancora come evitare Sta mossa qua Perché non capisco Alcune volte mi manca Alcune volte non Non so qual è il motivo No Ok Cosa fai Cosa fai Cosa fai Cosa fai No Vaffanculo Lo sapevo C'era infatti una fiamma Verso il basso Me l'aspettavo Vai Ok Preso Nice Vai Ok Ok Non posso più un'altra volta Quindi provo a fare questo Mancato Peccato Avrei voluto utilizzare Un'altra delle fiammate Però avevo finito Purtroppo la Puntabilità Ok Si fa così Ha molto poco range Qua attacco lì Adesso che vedo Si sembrava che sia Attacco come gli altri draghi Ma no È proprio una mossa diversa Devo dargli il colpo di grazia Perché sei così distante Perché sei così distante Oddio Per questo Perché voglio fare questo Capito 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 Mancato Vaffanculo Vai Vai Ok Ultimi punti vita rimanenti Ok 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 Let's fucking go E questa volta Era meglio invece Questa differenza Dell'altra build 120.000 rune E Non è vero Ero triste Perché non era nulla di nuovo C'è un nuovo incantesimo Dei draghi Non me l'ha dato subito Ma posso andare a ponente Alla chiesa del draghi E ottenere un nuovo incantesimo Però non è comparso messaggio Ho sbloccato una cosa Alla cattedrale Questo è un nuovo Questo è un nuovo Quella zona lì La terra dei draghi Centra i draghi In quella zona lì Eh non c'è ancora niente Perché Ah infatti Non è composta la scritta E allora no Sono triste Non mi ha dato niente di nuovo Sconfiggo un boss nuovo Non mi dà niente di nuovo Mi dà un cuore Che non ci posso anche fare niente Che non posso Acquistare nulla con il cuore Beh in ogni caso Oramai L'unica stata Che possiamo intraprendere Del DLC È o andare a destra O andare a sinistra O entrare un legacy dungeon Tempo di entrare Vedremo